Per tenere sempre in ordine la posta, creo delle cartelle per organizzare i messaggi in modo che all'arrivo della mail si indirizza automaticamente nella cartella impostata. Incominciamo. Dobbiamo in pratica creare la cartella e nominarla. Clicco di destro, nuova cartella, Mary. La cartella, eccola qui, è stata creata. Adesso dobbiamo dare le regole di questo strumento. Posta elettronica, nuova regola, clicco la prima perché devo trovare il contatto che contiene questo nome, l'ha sposto nella cartella specificata. Contiene contatti da Mary. Aggiungi. Nella cartella specificata, cioè Mary. E la cartella è stata creata. Quando Mary ci scriverà, automaticamente la sua posta andrà a collocarsi nella rispettiva casella.